Un altro libro che è molto carino e molto utile è questo qui di Paul McKenna e posso farti diventare ricco. Questo è un altro libro sulla psicologia e sulla intelligenza finanziaria, come poterla sviluppare, come poterla applicare, che cos'è, come utilizzarla, eccetera, eccetera. Questo libro, anche questo, è molto pratico, ha una serie di spunti e esercizi e in ogni capitolo c'è. Ci sono delle domande, ci sono dei requisiti che possono aiutarti concretamente a lavorare su questo aspetto. Inoltre è incluso anche un CD con una meditazione che ti guiderà anche tramite l'ascolto a impostare mentalmente gli esercizi e in particolare la mentalità da utilizzare nell'intelligenza finanziaria. Cosa di bello questo libro è che anche questo ha molti schemi, molti appunti pratici che possono portare il lettore pian piano alla comprensione di alcuni aspetti. Quindi molto molto pratico, è scritto molto molto semplicemente e quindi diciamo si raggiunge facilmente l'obiettivo grazie a questi spunti. Ti consiglio e buona ricchezza. Ciao!